Un patto in una prospettiva di dialogo istituzionale per la garanzia delle prestazioni sociali è quello che è stato siglato stamattina a Vallefoglia tra il sindaco Palmiro Ucchielli e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Antonino Raimondo. In particolar modo si è parlato di due diritti fondamentali quali la casa per i soggetti più in difficoltà e i contributi statali da garantire a chi ne ha un reale bisogno. Noi pensiamo che non debba esserci un mondo di furbi nel senso che chi riceve la casa pubblica deve averne requisiti e se li perde la deve lasciare un altro. Chi ha un qualche contributo dello Stato, in questo caso del Comune, deve averne diritto, non può avere il contributo e magari andare via con una super macchina megagalattica di milioni di euro. e se tutti pagano pagano un po' meno tutti, se tutti rispettano le regole non c'è nemmeno polemica perché alcuni vengono da me e mi dicono ma quello c'ha la casa che non ha diritto. Bene, il controllo è la Guardia di Finanza, quindi se ha diritto ha diritto e se non ha diritto vuol dire che la casa la prende un altro che è ingradatoria e che magari ha più bisogno di quello che ha attualmente l'abitazione. Infatti, come il Sindaco ci ha detto, capita a volte che a far richiesta ed usufruire di edilizia residenziale pubblica e contributi statali erogati dagli enti locali siano soggetti che in parte o totalmente non ne hanno diritto ma che fanno i furbetti mettendo in atto così vere e proprie truffe come ricordato non più di una settimana fa a Pesaro dal Comandante Raimondo durante la conferenza stampa di bilancio annuale. Un'analisi più attenta dunque e mirata per fare da filtro a tutte le irregolarità e garantire le idoneità necessarie da parte dell'amministrazione locale ma sotto l'attenta regia della Guardia di Finanza di Pesaro che avendo maggiori potestà giuridiche potrà intervenire in aiuto alla normale amministrazione in un dialogo bidirezionale tanto stimolante quanto necessario per garantire trasparenza, correttezza ed equità istituzionale. Grazie. 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 Grazie.